Non può essere tutta la vita il raggiungere, mordicchiare la carota, oppure come dico la mosca di successo in un mondo di merda e quindi ambire un pezzettino di merda un po' più grande rispetto a quello degli altri, perché oggi è così, ho un po' più di popolarità, ho un po' più di visibilità, ho un po' più di soldi, che tradotto è un pezzettino di merda maggiore di quello degli altri di cui vantarmi, ma è folle.